Ciao Deborah, oggi parliamo dell'aggettivo, una parte del discorso variante. Gli aggettivi sono parole che aggiungono informazioni al nome e con il nome concordano il genere e il numero. Maschile o femminile, bello o bella, numero, singolare o plurale, allegro o allegri. Si dividono in aggettivi qualificativi e determinativi. A G aggiungono una qualità al nome e si esprimono in tre gradi. Grado positivo, grado comparativo e grado superlativo. Grado positivo, Gigi è un bambino alto. Grado comparativo, di maggioranza, Mario è più alto di Gigi. Di minoranza, Gigi è meno alto di Mario. Di uguaglianza, Gigi è alto come Pippo. Poi, grado superlativo, relativo. Esempio, Mario è il più alto della classe. Assoluto, Mario è altissimo. Aggettivo determinativo, il nome con altre informazioni. Si dividono in aggettivi possessivi, il mio gatto, il tuo cane. Aggettivo dimostrativo, questa palla, quell'ape. Aggettivo indefinito, alcuni pesci, molti pesci. Aggettivo numerale, cardinale, cubi, tre cubi, ordinali, il terzo vincitore. Aggettivo interrogativo, quante palline? Aggettivo esclamativo, che sole! Quindi, gli aggettivi qualificativi indicano una qualità di e modi di essere. Gli aggettivi determinativi precisano aspetti particolari come possesso o quantità. Ciao, 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 ciao!